Parliamo di farmacie, un settore tradizionalista ma anche in trasformazione. Da qualche tempo a questa parte infatti prendono piede sul web anche le vendite di prodotti di parafarmacia. Nel territorio a fare scuola in questo senso è la farmacia FENU di Carbonia che grazie alla costruzione del sito clickpharma.it non solo ha incrementato le vendite ma si è guadagnato un articolo sul giornale a tiratura nazionale Millionaire. Dottor Vargiù, la necessità oggi della vendita online è sempre più impellente. Che sia addirittura una farmacia a essersi unita a questa rete è una cosa singolare, una cosa nuova. Sì, direi che il mercato di e-commerce in Italia sta crescendo moltissimo. Il discorso della farmacia è molto particolare. ha un incremento come il numero di players, quindi di aziende che vanno su internet molto molto grande. La farmacia FENU qui rappresenta un po' una mosca bianca, nel senso che non è una farmacia online nata da poco ma anzi il progetto è nato già nel 2009. Di conseguenza adesso stiamo raccogliendo dei frutti e si parla di un progetto in forte crescita. Simone, come avviene poi nella pratica la prassi della vendita online? Non parliamo precisamente di farmaci ma di parafarmaci. Una volta che io acquirente faccio il mio click per selezionare il prodotto, come ricevo quel prodotto poi a casa? Niente, quindi noi riceviamo una mail che ci avvisa dell'arrivo di un ordine. L'ordine viene trattato immediatamente, quindi viene processato, preparato il prodotto e consegnato la sera al corriere. Quindi nel giro di solitamente 24 ore noi siamo in grado già di spedire il prodotto direttamente a casa e in 48 ore consegnarlo al cliente finale. Allora, questo servizio abbiamo detto che è attivo dal 2008-2009. Ultimamente c'è stato un incremento delle vendite online e delle richieste? Sì, c'è stato un significativo incremento anno dopo anno. I settori più importanti sono quelli della dermocosmesi e quelli della prima infanzia. Stefano, questo mese siete su Millionaire, su un importante giornale. Si parla proprio della farmacia FENU. Una buona intuizione questa? Assolutamente sì. Diciamo che l'essere apparsi su Millionaire in qualche maniera ci ha anche ripagato degli sforzi. Degli sforzi e della nostra forte convinzione di investire su questo nuovo canale di vendita. Questo grazie all'ottor Vargiù che avete già sentito, che ha fatto sì che il nostro sito avesse questo incremento, tale da renderlo interessante anche a una rivista così importante come Millionaire. Niente, per noi è stato molto appagante. Noi piccoli, così piccoli, la piccola farmacia FENU che appare su un quotidiano, su un mensile come Millionaire, la tiratura nazionale, insomma, per noi è un grande risultato. Ecco.